Questo è un messaggio straordinario. Ci scusiamo per l'inconveniente, ma il concerto dei pinguini tattici nucleari previsto per questa sera è stato annullato. Per il rimborso, rivolgersi all'Infopoint. La decisione non dipende dal volere della band, ma da tutto quello che avete letto sui giornali, ovvero... Chi è stata rubata la strumentazione? Hanno fatto un incidente con il furgone. Riccardo non ha più voce per un problema di deglutizione. Sono sei cloni messi lì dalla CIA. Han perso lo smalto, la simpatia. Una band a questo stadio non può soffrire di agorafobia. Il tempo rallenta. Sentite l'intocchi. Alzate le mani. E chiudete gli occhi. Pinguini scomparsi. Pinguini disciolti. Pinguini riapparsi. Pinguini risentimi. Cappovolo, come state? Siamo di settembre